buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è mercoledì 15 maggio 2024 possiamo dire il giorno prima perché domani è il giorno del giro d'italia un giro d'italia che sta scombussolando veramente tutto il territorio fanese lo diciamo in maniera positiva ovviamente perché questa è una manifestazione che da un grande sprint possiamo usire questo questo vocabolo alla promozione di tutto il territorio saranno tantissime le televisioni che riporteranno l'andamento di questa tappa e riprenderanno tutto il bellissimo paesaggio del nostro territorio bene cominciamo come sempre attraverso l'almanacco del giorno e vediamo chi si festeggia oggi ecco la grafica oggi è santo isidoro detto l'agricoltore si faceva il contadino era un santo spagnolo che visse tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo quindi in pieno medioevo era un povero contadino che ogni mattina andava a messa e poi si recava al lavoro nei campi fu un uomo buono pieno di carità faceva carità lui faceva un lavoro molto molto duro e quello che guadagnava spesso lo donava anche ai poveri era un uomo che nutriva una grande fiducia in dio nella provvidenza di lui si raccontano molti molti miracoli e ancora oggi sant'isidoro è molto venerato in spagna ma anche in altre località del cristianesimo e ora passiamo alle previsioni del tempo il tempo di oggi sulle Marche è un tempo diciamo così variabile variabile abbiamo un'alternanza tra un tempo buono ma anche con uno strato nuvoloso che si farà più intenso nel corso della giornata temporali nel pomeriggio specialmente a ridosso dei rilievi appenninici le temperature sono stazionarie 15 la minima 21 la massima nella provincia di pesa l'urbino ma sale un pochino fino a 23 gradi nel sud delle Marche i venti sono tesi con una direzione media da est e sulle coste e da est nell'entroterra il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 5 e 42 e tramonterà alle 20 e 25 ed ora cominciamo con una notizia che non è ancora sui giornali ma lo sarà senz'altro nella giornata di domani purtroppo non è una bella notizia ebbene diciamo che questa notte è deceduto l'ex sindaco di fano giuliano giuliani aveva superato i 90 anni è stata una figura che ha dominato il governo della città di fano per diverso tempo leader della democrazia cristiana è stato sindaco di fano si era dato l'alternanza con francesco baldarelli all'inizio degli anni 90 è stato un grande urbanista e dobbiamo dire anche un grande legale un grande avvocato perché poi la sua vocazione era quella appunto della della legalità della magistratura nel senso appunto del di essere un avvocato un avvocato che ha difeso tante persone ma anche tante tante istituzioni dando la sua consulenza a molti molti enti ne parleremo i suoi funerali si celebreranno venerdì ovviamente non domani con il giro d'italia venerdì il duomo ancora deve essere definito l'orario vedremo domani come riporteranno questa notizia i giornali ovviamente è stata una figura emblema del diciannovesimo 20 delle ventesimo scusate ventesimo ventunesimo secolo della città di fano ora invece diamo un'occhiata ai giornali vediamo quella la prima pagina del resto del calino con tutte le disposizioni si comincia oggi veramente a prendere provvedimenti per l'organizzazione dell'accoglienza dei girini domani domani i giorni arriveranno verso le 18 e quindi abbiamo un pomeriggio un po inoltrato per quanto riguarda il clou della gara ma tutto è cominciato già stamattina con la presa in visione e esecuzione soprattutto dei provvedimenti giro scatta il conto alla rovescia vanno liberati ben 2000 posti auto primi divieti di sosta a partire da oggi mentre domani dalle 13 alle 18 ben 178 strade verranno chiuse ebbene da oggi scatta dunque questo conto alla rovescia vediamo la tensione massima e dalle ore 16 16 di oggi quando occorrerà aver già liberato dalle auto parcheggiate i controvaiali di viale gramsci via primo maggio via delle rimembranze e il pincio ovvero tutto il cosiddetto circuito delle carnevale comincerà appunto a essere inibito il traffico del circuito del carnevale con tutte le deviazioni che si fanno quando a fano ci sono le sfilate dei carri allegorici e poi vediamo quello che si fa nel parcheggio della caserma dove il divieto di sosta scatterà alle ore 20 per agevolare l'accesso scusate questo il foro boario il foro boario dove scatterà il divieto alle ore 20 per agevolare l'accesso in ospedale ma anche il parcheggio della caserma verrà inibito e poi ci sono tutti gli altri provvedimenti ne abbiamo già parlati dei giorni scorsi sono stati enunciati in una conferenza stampa a cui hanno partecipato la comandante della polizia locale a narita montagna e la responsabile dell'ufficio latri e dell'ufficio traffico elenia santini ingegneri elenia santini sono inevitabili comunque i disagi per il trasporto pubblico che vede fermato e soppresse e il terminal del pincio che è stato spostato nel parcheggione di via della giustizia il parcheggione vicino al cimitero a seguire intorno alle 15 previsto l'arrivo del carovana del giro ma i corridori dicevo arriveranno alle ore 18 chi vuole maggiori particolari può leggere questo articolo pubblicato in prima pagina dal resto del callino che poi ritorna ritorna sulla pagina dedicata allo sport con ulteriori notizie fanno un abbraccio in rosa per aiutare la ricerca tra le tante iniziative collaterali anche la camminata dal centro al mare per sensibilizzare le persone sulla prevenzione del tumore al seno sono veramente tante tante le iniziative che si svolgeranno tra oggi e domani ricordiamo comunque che domani saranno chiuse tutte le scuole innanzitutto per evitare i disagi agli studenti per andare e tornare da scuola e poi anche per permettere loro di vedere questa kermesse questo spettacolo eccezionale che per la prima volta coinvolgerà tante tante vie di fano addirittura salendo fino a monte giove ridiscindendo verso centinarola e poi percorrendo alla flaminia ed entrando poi attraverso una deviazione tra via italia via giustizia in zona mare per risalire in viale battisti per poi raggiungere il viale 12 settembre viale gramsci dove il traguardo tra le tante iniziative collaterali anche la camminata dal centro al mare che si invita anche tutta la cittadinanza a fare dell'esercizio fisico che tra fitness e ginnastica e iniziative del genere in questi giorni veramente le iniziative sono tante 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 e la rivoluzione della viabilità interessa anche mondolfo e san costanzo perché anche questi due comuni sono interessanti sono coinvolti nell'itinerario del giro d'italia domani il giro d'italia attraverserà in parte i territori di mondolfo e san costanzo determinando anche in questi due comuni conseguenze sulla viabilità e l'apertura delle scuole e poi chi vuole leggere può vedere quali sono i provvedimenti abbiamo parlato di ginnastica di fitness e vediamo un articolo perché ieri la croce rossa di fano ha presentato una iniziativa che si svolgerà domenica 26 maggio la ginnastica silenziosa che fa bene al prossimo ebbene è un'iniziativa una camminata una camminata intervallata da tante sedute di ginnastica che verranno addolcite con delle cuffie in cui verrà proposta della musica è una delle belle iniziative della croce rossa di fano che organizza il silent fitness solidale si passeggia tra centro e mare ascoltando le indicazioni della cuffia ciccio graziani porta il boomerang agli europei il festival dedicato ai favorosi anni 80 che si svolgerà al lido di fano dal 20 al 23 giugno quest'anno annovera la partecipazione di questo grande sportivo che commenterà addirittura italia spagna e poi ieri è stata presentata anche quest'altra iniziativa che coinvolge il quartiere del poderino è un quartiere abbastanza problematico per quanto riguarda alcuni episodi che hanno fatto salire la ribalta bande di ragazzini intemperanti un po velletari che hanno causato dei danni dei vandalismi eccetera però in questa realtà opera un'associazione importante si chiama vivere il poderino un'associazione di volontari che non solo anima il quartiere con tante iniziative ma cerca di costituirsi come comunità educante ovvero intende realizzare delle iniziative per coinvolgere questi ragazzi che magari fanno queste cose per noia invece impegnarli di iniziative di valore etico e sociale può essere interessante ebbene questa associazione ha avuto l'idea di organizzare un concerto un mega concerto che si svolgerà il primo giugno dalle ore 17 alle ore 23 sono ore lunghissime in cui si esibiranno un si esibiranno un dj set di carbo e tre band giovanili c'è la island girls e la treving fellas e la nameless spero di averle pronunciate nel modo giusto e tredici solisti tredici solisti sono tredici ragazzi che interpreteranno delle belle canzoni e sono asia matteo seri angelica angelica scusate angelica grilli claudia abbondanzieri matilde talamelli nanos matilde mattioli claudia elia off cal elia forse off baby angelica gennari chiara russo elia burcini e giaco vince ebbene sono ragazzi che animeranno tutto il parco di via piemonte sarà una bella festa per tutto il quartiere segnatevi questo appuntamento il primo giugno prossimo passiamo ora la pagina politica e vediamo come ieri il partito democratico ha presentato la lista dei suoi candidati lo ha fatto nel cuore della città in piazza 20 settembre e all'aperto ebbene ha dato anche una notizia importante che però deve essere ancora formalizzata lo sarà tra i prossimi giorni ebbene sembra che sia giunta a conclusione l'acquisto dell'ex caserma paolini l'acquisto cioè un comodato che viene dato non so se è un comodato oppure una cessione comunque è il comune che credo che sia una cessione più che un comodato che il comune potrà utilizzare anche non solo il parcheggio ma anche le strutture della caserma paolini a meno parte delle strutture dell'ex caserma paolini il passaggio di proprietà ecco non è un non è un comodato d'uso ma proprio un vero e proprio passaggio di proprietà dello storico immobile è stato rivendicato tra i risultati dell'amministrazione uscente ne ha parlato proprio ieri l'assessora a sarà cucchiarini con noi ben 250 milioni di investimenti ha dichiarato e poi sono state così lanciate frecce sulla sanità l'arretramento della ferrovia e l'acciclabile fano urbino che sono tre strutture che l'amministrazione attuale contesta soprattutto al regione e quindi indirettamente al candidato sindaco del centrodestra ser filippi il quale è anche consigliere regionale comunque a giorni la formalizzazione del passaggio di proprietà dell'ex caserma paolini segna un risultato che si persegue da tanto tanto tempo sono passate diverse amministrazioni per riuscire a raggiungere questo risultato all'inizio addirittura dagli anni 90 e poi la presentazione del primario del reparto di senologia dell'ospedale santa croce cesare magalotti che sarà ospite nei studi di fano tv lunedì prossimo nella trasmissione occhio al voto gli chiederemo quali saranno quali sono state le ragioni per cui è sceso in pista comunque ovviamente ieri le ha preannunciate evidenziando il degrado della sanità fanese passiamo ad altri argomenti perché ci sarebbe molto da dire ancora su questa presentazione che evidenzia molti molti nomi nuovi sono diversi i consiglieri attuali che non si ripresenteranno quindi abbiamo un ricambio anche generazionale del partito democratico che è importante vediamo ora nuova piscina senza collegamenti è inaccettabile per luca serfilippi il quale evidenzia come le fermate degli autobus nei pressi della nuova piscina dell'aeroporto sono molto molto lontane e ancora non è pronta la pista ciclabile che collega che dovrebbe collegare il centro storico con questa nuova grande bellissima struttura manca un timbro sui documenti la lista di moscatelli per ora è fuori un infortunio alla lista di moscatelli per quanto riguarda il comune di monte porzio mancherebbe un timbro un timbro per quanto riguarda la lista insieme per il futuro del candidato sindaco marco moscatelli che è stato individuato dalla sottocommissione elettorale circondariale di pergola che ha notificato la delibera con cui ricusa la lista in oggetto insomma adesso non so se ci sarà poi anche un ricorso al tar oppure un modo per rattoppare questa mancanza lavori alla casa della comunità ripensare viabilità e parcheggi a mondolfo sono cominciati già ad alcune settimane i lavori di miglioramento sismico per quanto riguarda l'ex ospedale bartolini di mondolfo in procinto di essere trasformato in una casa della salute da casa della salute a casa della comunità che andrebbe ad aggiungere ai servizi già presenti un team tutto multidisciplinare di operatori medici di famiglia pediatri specialisti infermieri di comunità e altri professionisti che riguardano anche il sistema sociale quindi c'è un arricchimento tra l'aspetto medico l'aspetto sanitario e l'aspetto sociale un'integrazione che ovviamente è molto molto opportuna ad urbino per la crespini per maria francesca crespini si deve riaprire geriatria la candidata sindaco fa tante le proposte per la città tra queste molto sono concentrate sui problemi e sullo sviluppo della sanità sanità un po impera dappertutto perché tutte le popolazioni dalla costa all'entroterra avvertono che qualcosa non va che è carente la sanità soprattutto per quanto riguarda le liste d'attesa la mobilità passiva e via dicendo ancora un mese poi tutti per strada purtroppo si peggiora l'evoluzione della vicenda che si sta sviluppando a monte grimano terme dove quattro persone rischiano lo sfratto e quindi non avere una casa essere posti fuori in strada ebbene ora è stato dato soltanto un mese di tempo per sgomberare l'immobile però insomma la soluzione non è stata trovata e entro un mese dovranno appunto uscire di casa e non sanno veramente dove dove andare siamo in conclusione per quanto riguarda il resto del calino voglio solo notarvi quello che accade per i nidi e le materne delle capoluogo nidi e materne per l'estate calano le liste d'attesa ma 110 bambini sono fuori insufficiente ancora la risposta dell'amministrazione comunale per quanto riguarda questo importante servizio per le famiglie i cui i genitori lavorano entrambi passiamo al corriere adriatico vediamo come il nuovo direttore della azienda sanitaria territoriale 1 alberto carelli che ha preso il posto di nadia storti ha incontrato i primari del ospedale santacroce santacroce è strategico ha detto daremo priorità alle assunzioni il nuovo direttore ha incontrato appunto i dirigenti delle varie unità operative e soprattutto ha posto l'accento sugli investimenti che la regione intende fare per migliorare la funzionalità dell'ospedale santacroce prima di tutto la palazzina delle emergenze e urgenze che dovrebbe ospitare un nuovo pronto soccorso a risolvere così uno dei principali problemi del nostro nosocomio che apre le sue porte non solo ai fanesi ma anche a molti molti cittadini dell'entroterra ed è il più operativo il più frequentato di tutta la provincia dobbiamo procedere in fretta perché abbiamo pochissimo tempo a disposizione è stata assolto lo storico luciano de santis più che novantenne una figura emblematica della cultura della città di fano a cui erano state imputate il possesso abusivo di due epigrafi che sono state che sono pertinenti agli scavi di ostia era stato accusato di detenzione illegale in realtà luciano de santis le aveva ereditate del padre il quale le aveva acquistate nel mercato romano e le aveva incastonate nella sua abitazione quindi è stato riconosciuto completamente innocente e ovviamente non poteva essere diversamente perché la buona fede di luciano de santis è una cosa assodata e nota a tutti sanità attacco del segretario minardi penalizzati dalla lobby anconetana è stata proprio la sanità che il segretario del partito democratico renato claudio minardi ieri nella presentazione delle liste del partito democratico ha così accusato la giunta regionale di accentrare un po tutto al di fuori di fano e fano rimane penalizzata perché appunto a in ancona si decide diversamente insomma vediamo come da altre parti si fanno investimenti da noi rimangono poche cose così ha detto minardi e qua abbiamo tutta la lista tutta la lista dei candidati e ci sono anche delle rappresentanze degli immigrati della nostra città abbiamo per esempio il portavoce il rappresentante del dei senegalesi a livello addirittura regionale maissa fall abbia fall abbiamo anche delle rappresentanze albanesi insomma sono cittadini integrati che anche loro vogliono contribuire allo sviluppo della città di fano che hanno scelto come loro città di residenza e poi il ser filippo ancora interviene per migliorare la formazione in vista di un miglioramento dell'occupazione prende le mosse da quanto dichiarato dal direttore dell'ufficio dell'impiego per di fano vergari che nei giorni scorsi ha rilasciato una intervista al corriere adriatico dicendo come anche nel nostro territorio sia migliorata l'occupazione però ancora rimangono il 50 per cento delle proposte avanzate delle aziende in evase cioè ancora c'è chi pur non avendo un lavoro avendo anche una proposta non l'accetta e rimane così senza disponibilità e allora dice dice ser filippi dobbiamo insistere ancora sulla formazione sui corsi di avviamento sulla specializzazione della mano d'opera tiriamo ancora siamo ormai in conclusione vi segnalo questo articolo che è importante sicurezza poco personale mascarin in calza ser filippi siccome la sicurezza è uno dei temi principali sviluppato dal centro destra mascarendice ma la sicurezza è compito delle forze di polizia e il centro di questa carenza è addevitabile al governo perché non incrementa l'organico a disposizione e con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani grazie per l'ascolto e a risentirci